La pensione Tida, Holm? Sì? È tre case più avanti E chi hai pensato che fossi? Mi pare ovvio, il ragazzo alla pari Negli splendidi e sconfinati paesaggi nordici Le passioni più calde I segreti più inconfessabili Gli amori più tenaci Firmati in Gallinstrom Ciao figliolo Penso che sia ora di tornare a prenderti cura di tua moglie e dei tuoi figli Nuovi amori Sabato è in prima serata Sulla 5